Allora ragazzi, questa partita è decisiva. Maicon, tu devi aiutare in difesa. Nessuno devi avvicinarsi alla porta. Certo mister, ci penso io. Manuel, mi raccomando, sulla fascia dobbiamo andare a 300 all'ora. Certo mister, come il freccia rossa. Ragazzi, è importante non dare punti di riferimento. Cambiate spesso posizione tra voi. Certo mister, certo mister. Capitano, tu sai cosa fare. Devi caricare la squadra. Certo mister. Un capotreno. C'è solo un capotreno. Un capotreno. C'è solo un capotreno. C'è solo un capotreno. Capotreno. Capitano, c'è solo un 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 capotreno.